Salve, sono Angela della Beable ed oggi vedremo insieme come registrare l'audio da Windows 7 utilizzando la tecnica del Recording What You We Are. Abbiamo deciso di registrare questo video ad integrazione del tutorial numero 10. Buona visione! Accediamo al sito oddcast.com e inseriamo il testo da registrare. Precedentemente abbiamo definito la lingua e la tipologia di voce. Scegliamo Start, tutti i programmi accessori, quindi registratore di suoni di Windows 7. Andiamo insieme a definire i dispositivi di registrazione, quindi clicchiamo con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante e scegliamo dispositivi di registrazione. Mostriamo i dispositivi nascosti e abilitiamo Mixaggio stereo. Assicuriamoci che sia impostato come predefinito ed avviamo la registrazione. Salviamo il file creato e correttamente campionato. Questo potrà essere utilizzato all'interno di un'Ivr. Infine non mi resta che ricordarvi di seguirci sulla nostra pagina Facebook o sul canale YouTube per restare sempre aggiornati.